Sono più arrabbiato. Arrabbiato? Certo. È ancora arrabbiato come una bella? Ma si è messo a fare la zecca a garbuglio, sentite, da qualche parte. Ma infatti, guarda, è una cosa che non ho mai fatto in vita mia. È la prima volta che sono entrato dentro un tribunale, è stata in questa occasione, perché altrimenti non sapevo. E devo dire che, poveretti quei cittadini che si ritrovano a dover avere a che fare con la giustizia. Perché? Che è successo in tribunale? Ma perché è un labirinto, è un tale labirinto di cose, avvocati, giudici, magistrati. Se c'è una cosa estremamente macchinosa in Italia, questa è la giustizia. Ma questa cosa potrebbe finire presto, questa vicenda di peculato? Non te lo so dire, perché su queste cose, come avrai capito, non sono una zecca a garbuglio. Appunto. Però mi dicono che nei tempi, purtroppo, specialmente qui a Roma, sono rapidi, non sono brevi, purtroppo. Sono queste cose. Poi la cosa che mi colpisce, e che non sapevo, perché poi ti informi su queste cose qui, è che qui, almeno a Roma, è quasi normale il rinviaggiudizio. Tieni conto che c'è una percentuale del 97%. Di rinvio a giudizio. Tutto parte dall'idea che, essendo, diciamo, il nostro un sistema garantista e a tre gradi di giudizio, allora tanto vai. E poi stai lì a guardare le carte e vai nella fase dibattimentale. Solo che poi esistono leggi che, diciamo, che potrebbero essere applicate alla RAI, ma questo è tutto un altro discorso, non voglio fare... Sì, poi oggi c'è stata un'altra roba della castazione. Sì, infatti. Però che in ogni caso tu già paghi una pena. Cioè, nel senso, se hai rinviato a giudizio, in ogni caso devi andare via da lì. Per cui molto spesso ci sono delle cose, specialmente quando, per persone, ecco, che sono delle gulei, che creano una strategia politica che va tutto su questi meccanismi qui. Nel senso, che tu fai? Io ti mando, ti mando a rinviare a giudizio. Tanto non ti succede niente, però nel frattempo io riesco a fare un'operazione, per cui io ti tolgo dal posto dove non voglio che tu stai. Ho capito, ma il tuo obiettivo adesso è quello di essere reintegrato come direttore del Tg1, oppure da un po' basta con questa storia, fatemi fare qualcos'altro, me ne va? Cioè, l'obiettivo è vero. No, io ti dico molto francamente, sono un uomo di mondo, non sto lì a vedere, non so una cosa, l'ho fatto. Tieni conto che un direttore del Tg1 dura in media un anno e mezzo. Il Power Learner manca molto di meno, qualcun altro molto di più. Più fai, più sei in novi e più hai il rischio che ti fanno fuori prima. Però è anche vero, sai, io non so come la pensi te, però le forme sono infondamentali. Cioè, nel senso, se uno ti dice, parliamone, e ne parliamo, se qualcuno ti dice, ah no, deve andare via per questo, e poi ti accorgi che quella legge è inapplicabile, e per la prima volta l'hanno applicata con te, e che non stanno in cielo o in terra, allora, posso usare un'espressione un po' forte? Eh. Ti incazzi. Sì. Ma se tu vedi, c'è metà di questo paese, diciamo, è alle prese con il diritto, cioè, guarda un po', in politica, in economia, è tutto fatto in modo tale per cui tu finisci in questi meccanismi, e per cui ti parla... Ma ti hanno proposto di andare a New York oppure da qualche altra parte o no? O te l'hanno già proposto o no? No, 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 mi è stato proposto, ma io ti ho detto, guarda davanti rispetto a questa vicenda, che farò il ricorso, la legge che hanno applicato non era applicabile. E ti dico che è anche una cosa, secondo me, importante per l'azienda, perché se tu fai diventare la RAI un ente pubblico, allora a questo punto devi essere coerente, allora le funzioni si fanno per concorso. Visto che loro hanno preso come strada quella del, come abbiamo detto prima, degli azzecca-garbugli, io mi fido agli azzecca-garbugli. Ti giuro lo guarda ancora? Magari nessuno. Magari nessuno. No, 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 lo vedo, chiaramente vedo il TG1. E come è fatto? Meglio, peggio o uguale? Di fatto sta cambiando, secondo me sta un po' tornando indietro, ma molto dipende, diciamo, dal gusto, dalla mentalità. Nel senso sta tornando, il nuovo direttore che io stimo, una persona brava, che c'è Macari, però secondo me è molto legato a uno schema che è superato, che è quello del duopolio. Per cui molto spesso, diciamo, mantiene, diciamo, è tornato, diciamo, a un TG molto tradizionalista. Dimenticando che, purtroppo, ed è l'unico problema che ho avuto io, è che quando sono arrivato io, con la digitalizzazione, si è passati da 30 canali a 280. È come se su una lunga strada, prima c'erano 30 negozi, adesso ce ne sono a 280. per cui tu, voi in radio non avete questo problema, o non l'avete sempre avuto, perché non... Ma Mentana, allora c'è... Immaginati che hai una concorrenza di 200, che sono tante nicchie. Questo vale anche per Mentana. Questo vale anche per Mentana, che invece... Sono d'accordo, ma tu guarda questa cosa, hanno fatto un ottimo lavoro, c'è una società internazionale che ha fatto un'analisi su 20 telegiornali generalisti e 10 specializzati. Allora, l'ingredente di Mentana, rispetto a me, io do... Questo vi fa capire che poi sul piano, diciamo, della studentizzazione, cioè dell'orientamento, il mio sicuramente è meno esposto. Perché io normalmente nella mia media faccio 17 minuti di politica. Lui ne fa il 90%. Mentana ne fa il 42%. Sì. Cioè, il 17% e lui ne fa il 42%. Sì. Tu capisci che se io porto il 40... Faccio un telegiornale, un Tg1 che assegna il 42% del suo tempo alla politica, io non so al 22-23 che sto adesso, ma passo al 13, al 15, al 16. Chiaro? E mentre prima non c'era Mentana, ma non c'erano tante altre cose, non c'erano i comics, non c'era National Geographic, non c'era tutto questo, che vanno incontro a tanti, diciamo, segmenti, nicchie, di telespettatori che vedono solo quello. Adesso io ce l'ho. Ed essendo il grande, diciamo, il telegiornale più grande, quello generalista, è chiaro che quello che si interessa solamente di politica preferisce andare lì. E' vero o non è vero che le spese che tu hai fatto con la carta di credito aziendale, poi hai chiesto anche il rimborso di queste spese? Io parto, faccio questo contratto, questo contratto mi chiedono, diciamo, di fare l'esclusiva. Allora, l'esclusiva, io chiedo in cambio questa carta di credito, tieni conto che gli altri dettori non l'avevano. E perché l'hai chiesta? L'ho chiesta perché, visto che perdevo quella cosa e l'avevo invece nel giornale in cui lavoravo prima, cioè l'ha stato, ho detto, va bene, io perdo questa collaborazione, però fatemi una cosa che almeno mi dà la possibilità di fare le spese di rappresentanza. Ma già guadagnavi tanto, che bisognavi di avere pure la carta di credito aziendale per coprire le spese? Guarda, ti posso dire, se io vado a mettere insieme quello che avevo tra benefit e altro e quello che sono andato a prendere, non è così tanto, non ho guadagnato tanto, tenendo conto delle responsabilità e poi di tutto quello che poi mi è successo. Cioè, quanto era il contratto tuo alla RAI? Scusa, si può sapere? Eh? Quel contratto tuo alla RAI? Lo trovi su cosa? Io avevo 5,40. Beh, lo trovi sui, guardate, sono talmente chiaro che se vai su D'Agospia ho dato la memoria in cui addirittura c'è scritto. 5,40. Allora, io faccio questa cosa qui e gli chiedo questa cosa. Per loro, per due anni non mi dicono nulla. Poi, a una settimana dal voto del 14 dicembre, dove rischia di cadere il governo Berlusconi, un consigliere di ignoranza dice, ha detto che c'è tutto questo problema. Bene. Allora, l'allora direttore generale mi dice, guarda, è un benefit, risponde a Rizzo Nervo. Dice, no, non c'è nessun problema, ma è un benefit compensativo. Benefit compensativi li avevano anche i precedenti direttori. Poi, la cosa va avanti, si complica e lui manda una lettera a me e dice, guarda, abbiamo visto, abbiamo verificato dopo due anni, invece dopo due anni, che non possiamo, diciamo, fare questo benefit compensativo qui alla Rai. Devi restituire i soldi. Per cui, tu che cosa devi fare? Devi seguire determinate procedure. Visto che, tieni conto, al di là di tutte le stupidaggini che sono state scritte, a questo punto non basta che si va a vedere, diciamo, gli incartamenti anche del PM. Vedrai, l'unico problema erano i pranzi, cioè non è che rispetto ad altre vicende con me troverai bottiglie di champagne, che ti posso dire, gioielli o altro, ci sono solamente pranzi. la procedura prevede, Cattaneo del 2003, che accanto alla ricevuta del pranzo che ho sempre mandato, tu dovevi mettere il nome della persona con cui andavi a mangiare. Sfido, ma lascio perdere, sfido, se tu riesci a trovare un direttore di giornale in Italia che fa questo, io credo che... No, però, voglio dire, la domanda è questa. Tu hai chiesto... Fammi finire. La cosa interessante è che allora va bene questa... Quando mi fanno questo discorso, allora io chiaramente ho sbagliato la procedura. Mi riservo, diciamo, di porvi il problema di rivalere tutti voi, però questa procedura è sbagliata e allora io mi rido i soldi. Tieni conto che non c'era ancora nulla di penale, non c'era nulla della Corte dei Conti. La cosa interessante che secondo me invece andrebbe sottolineata è che il PM non è andato a verificare e che invece ho verificato io. Ok, possiamo andare a vedere. Ma questa circolare di Cattaneo come è stata di fatto messa in pratica dai miei predecessori e se tu vai a vedere nella memoria c'è quello che faceva le spese, i rimborsi spese di Mimun e che dice che loro non lo hanno mai messo il nome di questo o della persona con cui è andato a mangiare Mimun. E probabilmente... Però, ripeto, adesso abbiamo... Il punto qual era? È che per la prima volta questa prassi diversa nel senso che c'era la circolare però, visto che il direttore del TG1 ha un certo ruolo era stato esonerato il nome è stata applicata con me. Io questo trovo scandaloso. D'accordo, però veramente hai fatto il leguleio è veramente una cosa... Ma non è... Scusami, tu franca... Adesso ti sto dicendo allora tu c'è una specie di rappresentanza ti dicono che devi metterci il nome lo metti me lo dicono dopo due anni perché altrimenti l'avrei messo io ti do i soldi poi vengo a sapere che questa per la prima volta questa applicazione diciamo di questo circolare in questa maniera viene fatta con me i miei predecessori non è stato richiesto la prassi voleva che proprio per... D'accordo, benissimo ma è vero o no? è vero o no? Qui non è una questione di essere legulei qui è una questione di essere diciamo chiari No, d'accordo ma è vero o no? Che tu oltre all'usare la carta di credito aziendale poi chiedevi anche contemporanei No, no, una cazzata no, quella era un meccanico guarda quella non per nulla non per nulla se vai a vedere il PM non c'è nulla l'unico problema che mi pone il PM è questa cosa di non aver messo i nomi Va bene, andiamo... Alla fine chi si è comportato meglio barra peggio con te la lei nominata da Berlusconi oppure quello che hai definito il pusillanime pusillanime masi Guarda, non mi fare non do giudici su questa cosa qui io cerco di volare alto te lo dico Eh, vabbè, adesso però ho capito ma sono stati i tuoi dirigenti Ti posso dire nel senso che non ho capito le decisioni di entrambi poi me le spiegheranno altrimenti non avrei fatto Ma quella della lei perché? Per riposizionarsi secondo te? Perché il clima era cambiato? È stata applicata una legge che va contro tutta la filosofia Rai e tieni conto che la Rai in tutti i modi ha cercato di non essere mai paragonato o comunque di non essere mai considerato un ente pubblico improvvisamente improvvisamente mette la testa nel capio di una legge che viene utilizzata soltanto per gli enti pubblici tant'è che quello che tu vedi adesso che questo è della Cassazione questa sentenza lasciamo la dagli avvocati dimostra che invece la Rai la pensa in maniera diversa perché il ricorso fatto dalla Rai Cassazione è che ha vinto la Rai è proprio quello di dimostrare che non è un ente pubblico Vabbè, ma sì è una vicenda complicata è un tecnicismo no, è un tecnicismo che però su cui si basa no, non è un tecnicismo è un dato che nel senso che è stata applicata una legge che non andava applicata sì, ma il fatto stesso che tu hai restituito i soldi comunque dai questo è poco male no, no, scusami allora, scusami ma non è che tu li hai restituiti e non è che fai finire cioè non è che ho restituito i soldi perché c'era diciamo un giudice penale non c'era nessuno mi hanno detto che come avevo fatto io le note spese contravenivano a una serie di procedure che poi ho visto che non erano state applicate con altre a quel punto che cosa fai? ho capito ma hai sbagliato hai sbagliato a prenderti io secondo me l'errore iniziale è prendersi questa carta di credito perché ti sei preso questa carta di credito? perché scusami ti posso dire ma qual è? qual è? perché oltretutto è la carta di credito ma hai detto che nessun direttore del FIG1 ma è chiaro ma perché diciamo che è un'azienda antiquata ma qual è quell'azienda che manda ancora la gente con i soldi con gli anticipi? e poi cosa c'è di più? vabbè un sacco di aziende pagano cosa c'è di più chiaro di l'impido di una carta di credito io spendo e a loro gli arriva la ricevuta e io poi gli do la ricevuta allora lì il problema è quello di essere abbastanza chiari abbastanza diciamo corretti ma a te te l'hanno data per compensare un mancato introito da altre collaborazioni è questa la perversione io non ho chiesto stami a sentire non è che ho chiesto soldi più ho detto invece di darmi gli anticipi con cui io devo pagare la carta di credito cioè le spese di rappresentanza voi datemi la carta di credito poi è chiaro altrimenti io ho sempre mandato le note spese però scusa sono loro che non hanno controllato nonostante che alla fine l'intera vicenda di cui noi stiamo parlato c'è il nocciolo di questa diciamo questione giudiziaria che ho di fronte è perché non ho messo i nomi ho capito cioè tutto si basa su quello io chiedi al tuo direttore attuale se lui per caso quando fa delle spese di rappresentanza cioè va a pranzo con qualcuno mette il nome della persona che andrà a pranzo sono sicuro che ti dirà di no è una questione di riservatezza delle fonti e di altro grazie a tutti